nell'ambito del lavoro con i customer center inbound e outbound mettere a posto la voce e lavorare sulla voce veramente può produrre dei risultati straordinari perché ci mette in condizione di far sì che le cose che diciamo abbiano come sottotitolo la credibilità ad esempio nel customer center inbound di solito cosa succede che io rispondo al telefono cercando di dire le parole più belle che di solito sono scritte in uno script uguale per tutti ipotizziamo che sia relazione con il cliente buongiorno sono ci ho imparato che sono io in che cosa posso aiutarla di solito la risposta è relazione col cliente buongiorno sono imparato in cosa posso aiutarla detta così è come se io dicessi sì certamente ti amo moltissimo ascolta dove andiamo a cena questa sera intendo dire che a volte noi usiamo delle parole molto belle che però non pronunciamo in maniera altrettanto belle e di conseguenza cosa succede che gli altri sentono quella che dovrebbe essere una frase di coccole come quasi fosse una specie di momento di freddezza quello è il momento in cui il cliente tende ad attaccare o comunque innervosirsi quando il cliente che ci chiama è un cliente che ci porta del denaro che dobbiamo fidelizzare e che magari in qualche modo abbiamo bisogno di acquisire quello è un momento importantissimo riuscire riuscire col cliente a dargli la possibilità di sentirsi coccolato e quindi stimato è una cosa fondamentale nei customer sender outbound invece la possibilità di riuscire ad avere la voce giusta per conquistare il cliente nei primi cinque secondi della telefonata attraverso proprio la voce perché le parole non contano più a quel punto ma è quanto io sento che tu che mi stai parlando mi stai dicendo le cose giuste quanto sento che tu veramente vuoi come dire il mio bene cioè ad esempio il signor cliente buongiorno mi chiamo imparato possiamo per cortesia ecco già così io posso anche non essere interessato eppure come minimo premierò la gentilezza da qui in poi tutto quello che si può fare sul customer center è sicuramente un lavoro di importanza straordinaria e si possono davvero ottenere dei risultati dati certificati di grande livello